Le vibranti accoglienze della capitale Magiara ai conti Ciano. Una rappresentanza del fascio di Budapest rende gli onori alla stazione dell'Est, dove, alla presenza dei membri del governo e di una folla applaudente, il presidente del consiglio Darani e il ministro degli estri Deccania augurano il benvenuto al ministro dell'Italia fascista e alla figlia del duce. A presto! Dalla stazione all'albergo dove prenderanno alloggio i conti Ciano, la strada appare tutta fiancheggiata da tricolori e dali di popolo acclamante al duce e all'amicizia italo-maggiara. Dalla stazione all'albergo dove prenderanno alloggio i conti Ciano. Sua eccellenza Ciano depone una corona dall'oro sull'ara agli eroi ungheresi della grande guerra e passa in rivista le rappresentanze dell'esercito e delle società patriottiche e schierate nella grande piazza del monumento del millennio. A presto! Grazie a tutti.